Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, ha fatto visita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Teramo, per un sopralluogo volto a sottolineare il lavoro che si sta portando avanti sul territorio provinciale. Il sottosegretario ha avuto l'opportunità di valutare personalmente i progressi e le esigenze del territorio, oltre che a discutere dei piani futuri e potenziali investimenti con i rappresentanti locali. L'attenzione si è concentrata in particolare sulla nuova palestra e sul CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, strutture che saranno fondamentali per la formazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso, elementi vitali per la gestione delle calamità naturali e delle situazioni di crisi. Sì, sono stati consegnati i lavori, quindi inizieranno i lavori anche di una parte importante di recupero, grazie all'iniziativa del Corpo insieme alla struttura commissariale, i lavori che saranno gestiti nella struttura commissariale per il sisma guidato dal Senatore Castelli, che ci consentirà ovviamente di andare più veloci nella messa a terra dei lavori, che comporteranno il recupero di una parte della vecchia caserma, realizzando una palestra per la formazione e l'addestramento del personale, e allo stesso tempo di realizzare anche un centro di coordinamento per la sicurezza, quindi con Prefettura e gli altri enti ovviamente interessati, e che fa del Corpo nazionale e del Comando provinciale di Teramo un punto centrale anche nella prevenzione, ma soprattutto come base logistica per tutti gli attori che concorrono nel sistema di protezione civile. I nuovi mezzi arriveranno di qui a breve anche per il personale di Teramo, per consentire alle donne e agli uomini del Corpo nazionale di essere più efficaci nel servizio ai cittadini, ma anche più sicuri quando operano nel soccorso, e ovviamente un'attenzione particolare alle sedi, soprattutto in queste sedi che sono state colpite dagli eventi sismici. Per il Comando questo è stato un momento significativo per mettere in evidenza anche l'impegno volto a rafforzare le strutture di soccorso. Sì, diciamo per noi la visita, noi che ci sentiamo un piccolo comando, la visita del sottosegretario è un motivo di gratificazione, quindi anche di stimolo, è anche il momento per fare un attimino, per una verifica di tutta la situazione delle lavorazioni che sono già in atto, e anche di altri tipi di interventi sulle sedi distaccate, per esempio, che sono in itinere.